Per l'avvertenza Aside è stato convocato per domani pomeriggio un vertice in prefettura. Il sindacato spera che il presidente dell'Aside Pasquale Pisano arrivi al tavolo con una soluzione. Le mensilità arretrate e le mancate risposte stanno esasperando gli animi dei lavoratori. Sta per partire la convocazione per domani pomeriggio di tutte le parti interessate alla soluzione per la depurazione in Irpinia. È un buon inizio, la prefettura ci ha sostenuto anche rispetto al documento presentato che invierà al governo. Chi è sotto accusa è Pasquale Pisano, presidente dell'Asi, che ha fatto fallire prima il CGS, adesso l'Asideppe e adesso ha di ritorno 56 persone che il tribunale sta per licenziare. Quindi è un disastro, se ci porta una soluzione la valutiamo e se la soluzione ci convince gli faremo anche un applauso, altrimenti noi gli chiediamo da subito di dimettersi.